Gli uomini vivono una duplice realtà, una conduce alla perdizione e l'altra alla salvezza. L'uomo rifiuta di riconoscere Dio come suo Signore, non rispetta l'ordine da Dio nella creazione, mangia il frutto del bene e del male e così si forma una legge a uso e consumo personale. La società cade nella confusione degli interessi privati, le conquiste della tecnica, della scienza non bastano più a promuovere il progresso sociale. Non si costruisce la città dell'amore vicentevole ma la torre di Babbele. Cristo Gesù spezza le catene del peccato, ci rigenera alla vita nuova e ci fa figli di Dio. Figli di Dio significa eredi del paradiso, più di così pensa che Dio non ci poteva accontentare. Egli diventa nostro cibo nell'Eucaristia per essere la nostra forza e sostegno nel nostro cammino, donandoci la possibilità di giungere alla perfezione. Se diamo un fugace sguardo a tutto ciò che ci circonda, il quadro che si presenta riempie il cuore di tristezza. Guerre, violenze sui minori, molte malattie provocate dall'egoismo, inquinamento della natura, ingiustizie sui tribunali, eccetera. L'uomo a cui viene affidato alla creazione ne diviene causa di distruzione e di morte. Vive poi la grande schiera di gente che in pratica vive la fede in forma devozionale. Magari le processioni, la messa, la domenica o quanto si crede opportuno. E quindi una vita prettamente in una forma poco degna di essere chiamata cristiana. Abbiamo varie forme di mancanze, peccate di ignoranza. Il peccato di ignoranza è chiaro che se una colpa c'è, c'è proprio nell'essere ignorante della fede. Si trova tanta difficoltà a seguire i corsi primatimoniali, alle varie istruzioni, eccetera. E di conseguenza poi ci sono i peccati di ignoranza. Abbiamo i peccati di fragilità che dipendono dalla debolezza del carattere. Non si è avuto una buona formazione di vita cristiana. Peccati di malizia, e queste qui appartengono a questa classificazione. Quello che peccano per raffinata malizia e satanica estimazione del peccato stesso. Si diviene schiave della bestemmia, dei piaceri, del sesso, dell'avarizia, della superbia, dell'orgoglio. Dio con la voce della coscienza dà fastidio invocando la libertà di azione. Di Padre Pio possiamo dire che molte volte in confessione alzava la voce creando tra i fedeli un senso di rifiuto. Perché tale metodo voleva svegliare le coscienze addormentate dall'abitudine e dalla incoscienza della responsabilità come cristiani battezzati e figli di Dio.